Questi due topolini sono gemelli, ma uno è invecchiato molto prima. Gli scienziati sono riusciti a portare indietro le lancette dell'età. Parliamo di ricerche scientifiche serie. Vi spiego come funziona e vi aggiorno sulle tante scoperte recenti che riguardano l'invecchiamento. Non è un clickbait, non parliamo di cosmetici anti-age e balle varie, parliamo di ricerche scientifiche che rivoluzionano l'idea stessa di invecchiamento. Io sono Sergio Pistoi e questo naturalmente è il mio canale Rock Science. La notizia di cui parliamo riguarda due ricerche da poco pubblicate su Cell e Nature, due riviste scientifiche di prestigio, e frutto di un filone di ricerca che dura da decenni e che cercherò di raccontarvi. Dietro a queste ultime pubblicazioni c'è un gruppo allargato di ricercatori che fa capo a David Sinclair, uno scienziato della Harvard Medical School molto conosciuto nell'ambito dell'invecchiamento, autore anche di un libro divulgativo di discreto successo e che anni fa ho avuto anche il piacere di incontrare proprio a Boston dove lavora. I ricercatori sono riusciti ad accelerare e anche a invertire il processo di invecchiamento in topi di laboratorio. Risultato? L'età biologica torna indietro di diversi mesi che nell'uomo corrisponderebbero a svariati decenni. Nessun effetto speciale, niente magia nera, ma tanta ricerca che parte da lontano, perfino da un premio Nobel assegnato nel 2012. Alla fine di questo video capirete la scienza che sta dietro a questo risultato e quali scenari si aprono. Seguitemi, vi spiego tutto con calma. Questo video è sponsorizzato da Deepol, che è il primo microscopio portatile potente alla portata di tutti. Si usa con qualunque smartphone, costa quanto un giocattolo, ma è un microscopio serio con cui esplorare il mondo microscopico ad ottimi livelli. Ho fatto molti esperimenti di microscopia con il Deepol, li trovate in questo canale e nella playlist Viaggio Micro e molti altri arriveranno. Per cominciare a esplorare il mondo microscopico in modo semplice e senza dissanguarvi, o se volete fare un regalo intelligente, in descrizione trovate un link diretto per l'acquisto di un Deepol con un codice sconto riservato agli amici di Rock Science. Il microscopio poi non è un caso, perché il punto di partenza degli studi moderni sull'invecchiamento nasce proprio da un tizio che i microscopi li conosceva bene. Si chiamava, anzi si chiama ancora, Leonard Heiflick, professore a Stanford che nei primi anni Sessanta inventò il primo microscopio invertito, cioè un microscopio dove si possono osservare direttamente le piastre di cultura e quindi le cellule vive. Grazie anche a questa invenzione Heiflick poteva osservare come le cellule di diversi organismi si moltiplicavano e fece una scoperta semplice ma fondamentale. Anche le cellule di un organismo coltivate in laboratorio invecchiano, proprio come l'organismo intero. Le cellule riescono infatti a fare un numero fisso di divisioni cellulari, dopodiché smettono di dividersi, entrano in senescenza e la cultura cellulare non va più avanti. Il nostro corpo invecchia perché col tempo le nostre cellule perdono la loro capacità rigenerativa. Questo limite che si studia sempre in biologia è chiamato anche limite di Heiflick che dipende dal tipo di cellula e dall'organismo. Cellule fetali umane, ad esempio, si dividono 50-60 volte in cultura prima di fermarsi. Il limite non vale per le cellule tumorali che invece, se si mettono in cultura, si dividono all'infinito. Le cellule tumorali sono immortali proprio perché hanno perso quei meccanismi di controllo che limitano la proliferazione cellulare. Dai tempi di Heiflick ad oggi, le ricerche e le teorie sull'invecchiamento sono state tantissime. Come ovvio, qualcuna l'avrete anche sentita o studiata e non ho tempo qui di parlarne. In sintesi, è improbabile che ci sia un solo fenomeno che da solo spieghi l'invecchiamento, ma è anche verosimile che le diverse cause che conosciamo non siano indipendenti una dall'altra e che alcuni meccanismi siano, per così dire, gerarchicamente superiori e quindi più influenti e lo vediamo tra poco. Per capire semplicemente il cuore del problema, invece, concentriamoci ora su alcune scoperte recenti ma anche su alcune cose che sappiamo tutti e magari non abbiamo mai ricollegato all'invecchiamento. Primo indizio. Pensate a quando eravate piccoli. Perfetto. Ora andate un po' più indietro. Ancora un po'. Stop. Perfetto. Pensate a quando eravate. Tegliovoli fecondati. Quando i vostri genitori vi hanno concepito, magari erano adulti di 20, 30, 40 anni, quello che è. Eppure non siete nati con l'età biologica dei vostri genitori. La vostra età biologica è ripartita da zero. Significa che durante la fecondazione è avvenuto qualcosa che ha resettato l'orologio cellulare. Come quando si azzera un contachilometri. Durante la fecondazione il programma genetico delle cellule riparte da zero. È una cosa che diamo per scontata, ma che invece ha enormi implicazioni nello studio dell'invecchiamento. Una cosa che fa impazzire da sempre quelli che studiano la rigenerazione. Perché lì c'è evidentemente una chiave per capire cosa succede. Qualunque sia il processo di invecchiamento cellulare, tornare indietro è possibile. Succede ogni volta che nasce un nuovo individuo. L'altro indizio è arrivato sotto forma di questa pecorella. Nel 1996 nasce la pecora Dolly, il primo mammifero clonato a cui ne seguono molti altri. Per clonare un animale si prende il nucleo di una cellula adulta, di solito dalla pelle, e si inserisce in un ovocita che è stato privato del suo nucleo. L'embrione che nasce avrà un solo DNA, quello del donatore, perché il nucleo arriva dal donatore mentre il DNA dell'ovocita è stato eliminato. Le tecniche di clonazione hanno aperto prospettive enormi, ma qui concentriamoci su un dettaglio interessante. Quando cloniamo un animale, il clone che viene fuori ha lo stesso DNA del donatore, ma non nasce con l'età del donatore. Se cloniamo un animale anziano, abbiamo pur sempre un embrione e poi un cucciolo. I cloni non nascono vecchi e non invecchiano precocemente, almeno per quello che ne sappiamo oggi. Anche durante il processo di clonazione, l'orologio dell'età si resetta, proprio come succede nella fecondazione. Magari cloniamo una cellula anziana che dovrebbe aver già superato il limite di iFlick, e riparte di colpo da zero, come un contachilometri truccato. Dov'è questo contachilometri? Non è ancora chiarissimo, ma oggi sappiamo, anche grazie agli studi sui cloni, che il contatore dell'età biologica non sta tanto nella sequenza di DNA, che infatti non cambia tra il clone e il donatore, bensì nell'informazione epigenetica o epigenoma. Cos'è l'epigenoma? È tutta quella mole di informazione genetica che non è scritta direttamente nella sequenza di lettere del DNA, ma dipende da modifiche reversibili della struttura dei cromosomi. Una tipica modifica epigenetica è la cosiddetta metilazione, in cui piccoli gruppi chimici, chiamati metili, vengono attaccati al DNA come delle etichette, che possono essere attaccate, rimosse, riattaccate e così via. È come un libro con le pagine incollate, l'informazione scritta nel DNA è sempre lì, ma se una cellula non può leggerlo è come se non ci fosse. La metilazione è in qualche modo legata al processo di invecchiamento, tanto che analizzando lo stato di metilazione di una cellula si può misurare con buona approssimazione la sua età biologica. Gli scienziati parlano di metilation clock, cioè l'orologio della metilazione. Un'ipotesi immersa negli ultimi anni è che l'invecchiamento sia causato proprio dalla perdita di informazione epigenetica. David Sinclair, autore con i suoi colleghi degli studi recenti di cui parliamo oggi, è uno dei maggiori sostenitori di questo modello e gli rubo la metafora che usa spesso per spiegarlo. Prendiamo un cd, la musica è incisa sotto forma di informazione numerica nel disco stesso. Quando il disco è nuovo, l'informazione è perfettamente accessibile al lettore, ma se col tempo la superficie si sporca, alcune parti non sono più accessibili come prima, si perde l'informazione e il lettore salta dei brani oppure si incanta o magari produce clic e rumori che non erano registrati nel brano originale. L'informazione, i dati, la musica sono sempre lì, ma non sono più accessibili. Ora immaginate che l'informazione numerica sia il DNA di una cellula e la superficie trasparente che ricopre il disco sia l'epigenoma. All'inizio tutto bene, ma col tempo, con l'età, l'epigenoma perde la sua organizzazione. La cellula non riesce più a leggere alcuni geni che gli servono oppure, viceversa, si attivano geni che dovrebbero essere silenti. Si crea una situazione di entropia e di disordine che porta progressivamente al deterioramento delle cellule, alla perdita di capacità rigenerativa, insomma, a tutta quella serie di fenomeni che complessivamente e volgarmente chiamiamo invecchiamento. La buona notizia è che però l'informazione non è persa. Proprio come le tracce del CD, l'informazione contenuta nel DNA è ancora al suo posto. È come se ogni cellula dell'organismo contenesse una copia di backup di quello che eravamo da embrioni o da bambini. Se riusciamo a pulire il CD, l'informazione ritorna leggibile e in effetti è quello che succede nella fecondazione e nella clonazione. I segnali epigenetici si resettano, si fa tabula rasa e il DNA è di nuovo accessibile alla cellula, come se fosse nuovo. Se sappiamo come riprogrammare l'epigenoma e magari se capiamo cos'è che si rovina col tempo, le lancette dell'età biologica potrebbero tornare indietro. Sembra fantascienza, ma è solo l'accumulo di decenni di ricerche, teorie e dati scientifici. Il salto di qualità arriva alla metà degli anni 2000. Lui è Shinya Yamanaka, ricercatore giapponese, autore di una scoperta straordinaria. Yamanaka cerca un modo per resettare le cellule adulte, quelle che si trovano nel nostro organismo, ad esempio nella pelle, e farle tornare allo stato di cellule staminali, proprio come quelle che si trovano negli embrioni. Vuole riprodurre quello che succede durante la fecondazione e la clonazione, ma senza fecondare e senza clonare nulla, semplicemente stimolando le cellule a resettarsi da sole. Dopo aver provato un'infinità di combinazioni, alla fine Yamanaka scopre che questa cosa si può fare in modo sorprendentemente semplice. Basta fornire alle cellule un cocktail di quattro proteine o dei geni che le producono, che si chiamano OCT4, SOX2, KLF4 e CMYC. È una scoperta pazzesca. Possiamo prendere cellule adulte, ad esempio della pelle, trattarle con i quattro fattori di Yamanaka e resettare il loro programma epigenetico, convincendole a diventare cellule staminali in grado di trasformarsi in altri tessuti, ad esempio muscolo o neuroni. In gergo si chiamano cellule pluripotenti indotte o cellule IPS. Il sistema di Yamanaka è la manina che riporta indietro le lancette dell'epigenoma e la cosa straordinaria è che basta un cocktail di appena quattro proteine. Nel 2012 Yamanaka vince meritatamente il premio Nobel insieme all'inglese John Gordon e il suo sistema è usato in tutti i laboratori del mondo per ottenere cellule staminali indotte a partire da cellule adulte e ha già rivoluzionato il settore della biologia rigenerativa. Se non conoscevate questa storia e la trovate interessante, magari potete fare una donazione a Rock Science per aiutare a coprire i costi. Il sistema di Yamanaka è fantastico applicato alle cellule ma se si tratta di farci ringiovanire ha un problema. Funziona troppo bene nel senso che il reset è quasi totale. Il sistema fa tornare le cellule bambine ma contemporaneamente cancella anche la loro identità. Una cellula della pelle trattata con il cocktail di Yamanaka smette di essere una cellula della pelle e resetta il suo programma genetico pronta a diventare qualcos'altro. Non è più una cellula adulta e differenziata diventa una cellula pluripotente come quelle che troviamo negli embrioni. Ma io voglio ringiovanire ma non voglio tornare ad essere un embrione e ripartire da zero. Le mie cellule devono ringiovanire ma senza perdere la loro identità altrimenti tutto il mio corpo va a scatafascio. Le cellule muscolari devono restare muscolo quelle della pelle devono restare al loro posto e così via. Voglio conservare la mia identità quello che sono i neuroni dove sono conservati i ricordi gli affetti tutto quello che sono e che ho imparato. L'idea non è rinascere da capo e neppure creare un clone più giovane di me stesso che sarebbe comunque un'altra persona. Voglio portare indietro le lancette quel tanto che basta per fermare o ritardare il processo di degenerazione legato alla vecchiaia. Sembra impossibile avere tutto questo? Ma non è detto. È il momento di tornare a David Sinclair e colleghi e ai loro studi pubblicati di recente perché abbiamo finalmente le basi per capire in cosa consiste la loro scoperta. Per invertire l'invecchiamento nei loro topolini Sinclair e compagni hanno usato il cocktail di Yamanaka però accorciato. Manca infatti uno dei quattro fattori Mick. Mick lo conosco abbastanza bene anch'io avendo fatto la tesi di dottorato proprio sul suo gene che si chiama C-Mick anche se la mia tesi non riguardava l'invecchiamento. Perché hanno tolto Mick dalla ricetta? Perché prova e riprova hanno scoperto che senza Mick il cocktail di Yamanaka funziona lo stesso ma senza cancellare l'identità delle cellule come invece fa il cocktail completo. Con il nuovo cocktail accorciato che per la cronaca si chiama OSK dalle iniziali dei tre fattori rimasti l'orologio epigenetico si resetta le lancette tornano indietro ma senza fare tabula rasa le cellule ringiovaniscono e mantengono la loro identità. Yes! L'altro motivo per cui hanno fatto bene a togliere Mick dal cocktail è che C-Mick è un oncogene cioè un gene che promuove i tumori cosa che in provetta non è un problema ma che in vivo può portare le cellule a proliferare in modo incontrollato. Per fornire il cocktail OSK ai topi Sinclair e Compari hanno usato l'ingegneria genetica i loro topini sono infatti geneticamente modificati in modo che le loro cellule autoproducono i fattori OSK e lo fanno a comando se e quando si inietta una determinata sostanza ai topi in questo caso un banale antibiotico il sistema si attiva e parte il cocktail così si può studiare la differenza tra prima e dopo. Quali sono i risultati? Molto del lavoro ha riguardato l'effetto del cocktail sul nervo ottico perché è proprio quello? Perché negli animali molto giovani sappiamo che il nervo ottico se è danneggiato si rigenera ma questa capacità si perde negli adulti per questo il nervo ottico è un modello molto usato per studiare la rigenerazione dei neuroni. E infatti nei topi adulti non trattati dove il cocktail non è attivato il nervo ottico se viene danneggiato non si rigenera invece in quelli dove il cocktail OSK è attivato il nervo si rigenera e gli animali recuperano la vista. L'orologio biologico misurato con il sistema del metilcloc che abbiamo visto prima torna indietro anche del 50% che nel topo significa andare indietro più giovane di qualche settimana e nell'uomo che vive molto più a lungo vorrebbe dire andare indietro di qualche decennio. Anche altri parametri che vengono misurati per valutare la senescenza sono indistinguibili da quelli di animali molto più giovani. I ricercatori hanno poi applicato la stessa tecnica anche su topi molto anziani che hanno perso la vista a causa dell'età o del glaucoma. Anche qui con il cocktail l'orologio torna indietro e la vista è ripristinata. Ci sono anche dati su altri organi di questi topi vecchietti ad esempio il muscolo e rene e anche lì i parametri con il cocktail OSK sono spesso indistinguibili da quelli di topi molto più giovani. Si tratta di primi risultati preliminari quanto volete ma sicuramente super interessanti. La cosa importante il messaggio che vorrei trasmettervi è che questi risultati non arrivano da un giorno all'altro ma lo abbiamo visto sono frutto di filoni di ricerca che vanno avanti da decenni collaborazioni internazionali tentativi più o meno fortunati insomma potranno funzionare o no in futuro ma non sono fulmini a ciel sereno e tantomeno magia. Lo dico perché mi è capitato di sentire commenti tipo ah vabbè troppo bello per essere vero oppure ma lo sappiamo che tanto si invecchia figuriamoci se questi in due balletti risolvono tutto. È vero che di cavolate in giro se ne sentono tante specialmente in tema anti-age ma qui parliamo di ricerche scientifiche vere serie di teorie ed esperimenti che potrebbero davvero rivoluzionare il modo con cui consideriamo e affrontiamo il fenomeno dell'invecchiamento. Prendiamole quindi con il sano scetticismo che ci vuole sempre ma anche con l'ottimismo di chi guarda avanti nella ricerca. Per la cronaca gran parte del lavoro di Sinclair e colleghi di cui vi ho raccontato in particolare lo studio pubblicato su Cell è dedicato non tanto a ringiovanire i topi ma a capire i meccanismi dell'invecchiamento che scientificamente forse è la parte ancora più interessante. Molto del lavoro infatti è stato quello di dimostrare l'origine epigenetica dell'invecchiamento. Questi due topolini sono gemelli ma uno dei due quello a destra invecchia molto prima perché ha delle modifiche genetiche che causano rotture del DNA in punti ben precisi e questo secondo i ricercatori causa dei problemi a livello epigenetico. Ci sono ancora tanti dubbi da risolvere lo dicono anche gli autori ma questi risultati confermano che l'epigenetica è una delle piste più importanti e di alto livello per capire l'invecchiamento. I risultati con il cocktail poi dimostrano che sull'epigenoma possiamo anche intervenire e cercare di fare la differenza. Pensate agli scenari da fantascienza che si aprono se un sistema come quello del cocktail funzionasse davvero o un sistema simile. Un trattamento che inverte il processo di invecchiamento e che si può ripetere ciclicamente tipo ogni 20 anni e in teoria potrebbe andare avanti in modo indefinito per chissà quanto tempo. Ma restiamo con i piedi per terra. L'idea realistica non è quella di diventare immortali e neanche di vivere 300 anni ma è quella di ritardare quel processo di degenerazione dell'organismo che chiamiamo invecchiamento. L'obiettivo che penso molti condivideranno è passare più anni magari tutta la nostra esistenza nel pieno delle capacità fisiche e mentali sani attivi accumulando esperienza e magari anche saggezza. Lo so che ci saranno quelli che diranno ah ma per me sarebbe un incubo per carità fatemi scendere fatemi invecchiare e morire. Che noia! Ragazzi nessuno vi obbliga io dico che se vi annoiate così tanto forse il problema non è l'invecchiamento ma sono temi in cui bisogna ammettere che non esiste una risposta giusta o una sbagliata ma soltanto scelte. Per quanto mi riguarda se l'idea fosse quella di vivere più a lungo in salute non vedere te stesso e i tuoi cari perdere pian piano le capacità fisiche e mentali io ci sto dentro. alla grande anche perché finora abbiamo fatto il contrario l'aspettativa di vita è aumentata si vive più a lungo ma senza la garanzia che questi anni in più siano di qualità superata una certa età ogni anno in più di vita moltiplica il rischio di patologie legate all'invecchiamento demenza malattie degenerative insomma il rischio di non vivere benissimo e perdere o malissimo e perdere la propria indipendenza e lucidità. non si tratta di essere contro la vecchiaia o contro i vecchi ma contro i problemi e le sofferenze legate all'invecchiamento che ripetiamolo forse non è un processo così ineluttabile come abbiamo sempre pensato staremo a vedere ancora due parole su dipol questo microscopio è diverso da tutti quelli che ho visto finora è tascabile portatile si può usare anche dove c'è sabbia acqua polvere in condizioni dove un classico microscopio non si può utilizzare sono stato uno dei primi a testare il dipol e devo dire che la qualità delle immagini è spesso comparabile a quella di un microscopio di gamma media che costa molte volte di più per vedere le immagini che ho girato con dipol cercate la playlist viaggio micro qui sul canale oppure andate sulla mia piattaforma didattica rockscience.it specialmente per gli insegnanti ricordate che potete acquistare un dipol con un bello sconto dal link che trovate qui oppure anche in descrizione se usate il codice rockscience lo trovate in descrizione cervello sempre acceso nella scatola cranica alla prossima grazie a tutti grazie a tutti